Ricostruendo il flusso campano, i carabinieri del Noe che stanno conducendo le indagini si aspettavano sì di trovare nel sito di Ordona enormi quantità di materiale, ma solo prodotto della frazione umida. Nei primi carotaggi eseguiti ieri e poi interrotti a causa della pioggia, hanno scoperto invece nell'enorme cratere parzialmente colmato che c'è di tutto. Anche i rifiuti indifferenziati e non trattati ospedalieri e chissà cos'altro. Saranno le analisi a stabilirne esattamente la tipologia e forse la provenienza. Le ruspe che ieri hanno cominciato a scandagliare la discarica hanno potuto lavorare per poche ore perché la pioggia giunta in mattinata ha impedito di proseguire i lavori. Riprenderanno lunedì prossimo, ma tanto è bastato per avere conferme di quanto ipotizzato nell'inchiesta della DDA che l'11 aprile scorso ha portato in carcere 14 persone tra amministratori, soci e autotrasportatori di società che lavorano allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. L'inchiesta ha portato anche al sequestro di aziende, stabilimenti, automezzi e discariche abusive per un valore di 25 milioni di euro. Tra gli arrestati c'era anche un indagato che figurava nella lista di persone consegnata il 7 ottobre del 1997 dal pentito Carmine Schiavone alla commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Secondo quanto accertato dagli investigatori, i rifiuti erano prodotti in diversi comuni delle province di Salerno e Caserta e seguivano due percorsi distinti. La frazione umida veniva smaltita senza alcun trattamento nell'enorme cratere di Ordona. Almeno 12.000 tonnellate di frazione secca sarebbero invece state disperse tra Puglia, Basilicata, Molise e Campania. In alcuni casi lo sversamento sarebbe avvenuto vicino a zone lacustri o corsi d'acqua di grande rilevanza paesaggistica e faunistica, ovvero in aree protette.